benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e come promesso oggi andiamo con la recensione dell'ultima nave rilasciata d'acciaio perché esce effettivamente oggi sui server di tutto il mondo ovvero il incrociatore pesante tier 10 sovietico diciamo hybrid cruiser commissar una nave che oggi vedrete in azione qui su la mappa di hotspot zona calda una situazione senza porta aerei ma tecnicamente lui può fare in minima parte le veci della porta aerei niente sommergibile ayat sherman gdanske gnevoi contro shimakaze vampire marsoio gnevoi dall'altra parte quindi formazione di storia piuttosto variegata presenza di radar dal nostra parte come anche dall'altra addirittura doppio radar salem castiglia diverse le corazzate di diversi tier in acqua classico match con corsa agli armamenti signori che cos'è il commissar per prima cosa è un incrociatore a lunga distanza ibrido specializzato in due tipi di attacchi ovvero il classico canonaggiamento a lunga distanza e poi ovviamente l'air strike speciale con i suoi aerei razzi demolitori sui vidici idrovolanti particolarmente potenti denominati da noi l'attacco di full vieto da trieste dato che artorius odia particolarmente le porterie quindi l'abbiamo marchiato in questo modo sui idrovolanti made trieste signori giocheremo qui sul fianco sinistro insieme alla iate che sarà un prezioso alleato in supporto non avremo ovviamente le corazzate di aiuto a parte laio in un secondo momento che giocheranno come sempre alle spalle molto lontane le corazzate ormai giocano sempre così ma continuiamo a parlare di lui il protagonista di oggi ovvero il commissar è una nave che ci ha fatto veramente peinare durante i test specialmente all'inizio perché era particolarmente difficile da giocare dopo una serie di buff dire che oggi in una random battle classica può fare veramente danni spaventosi quando solo quando è libero di giocare perché la sua armatura poi lo vedrete nella scheda è particolarmente vulnerabile per non dire peggio chi potete notare quello che il marchio di fabbrica del commissar ovvero i suoi potentissimi cannoni h.i guardate un po 10.215 sulla prima salva a una distanza di quasi 16 chilometri i suoi cannoni oltre ad avere una balistica notevole di 950 metri al secondo godono anche di un fattore importantissimo per sviluppare danno ovvero la penetrazione hanno infatti una pen speciale da 40 millimetri che solitamente è data a canoni ben più grossi di normali 240 e questa pen le permette appunto di fare enormi danni contro qualsiasi cosa colpisca anche destroyer portaerei corazzate tutto viene letteralmente sciolto da lui quando è libero di sparare con questi cannoni ovviamente i cannoni speciali si pagano a caro prezzo e nel suo caso si pagano con in due grandi handicap della nave il primo è dettato ovviamente dall'armatura l'armatura infatti è veramente terribile poi la vedrete ma soprattutto il quantitivo di hp solamente 48.300 con già a bordo servability expert qui siamo ovviamente in posizione di kiting aspettiamo la montana e guardate bene come tratteremo la montana perché vi rendete conto di come può essere pericoloso questo cruiser quando è libero di sparare contro le corazzate come dicevamo prima perché tira dentro delle sassate allucinanti il suo investimento di torpa del 7 per cento scarso come nella maggior parte dei cruiser mentre la sua armatura è composta da una poppa da 25 millimetri con un ponte centrale leggerissimo da 30 ma soprattutto una cittadela da 115 gigantesca molto molto alta che comandanti è facile cittadelare anche con i cannoni più piccoli di alcuni destroyer veramente una roba allarmante perché ogni volta che date il broadside siete morti ma anche meno del broadside anche perché poi tratteremo un piccolo particolare ovvero la timoneria guardate un po in questo momento siamo a manetta invirata il malus che c'è sul bordo mappa non è ancora attivo ma guardate quanto lento a virare questo perché c'è un piccolissimo particolare che andrebbe evidenziato in questa circostanza il timone comandanti tira con un raggio virata di 1070 metri si avete sentito bene no 970 870 1070 con un tempo per raggiungere la massima efficienza di circa 10 secondi e mezzo ora giusto per fare un confronto con una nave che magari conoscete bene sapete quant'è il raggio virata della slava ve lo dico io 1090 questo è 1070 ovviamente la slava ha dei tempi più lunghi per raggiungere la massima efficienza però comandanti 10 secondi 1070 capite che vuoi che vuoi essere estremamente lungo e molto leggero e anche incredibilmente difficile da non ovrare ecco perché deve sempre giocare lunga distanza ecco perché almeno nelle random battle io la gioco così con il modulo della gittata è migliorata anche perché altrimenti avrebbe una gittata di solamente 17 chilometri a 2 mentre con le skill che poi vi farò vedere arriviamo a un confortabile anzi scusate confortevole 20 chilometri pulito pulito e se notate il colpo è estremamente preciso questo perché a 20 chilometri pensate questi cannoni hanno solamente dico solamente 150 metri di dispersione il colpo è veramente chirurgico si stringe come niente cade come un martello sul bersaglio e penetra brutalmente gli avversari causando danni e incendi a iose questo perché questi cannoni hanno il 23 per cento di fire chance e ricaricano con questa modalità in circa 15 secondi il brandeggio a 180 gradi comandanti e in 28 secondi e 3 quindi diciamo decente non top ma sicuramente decente la bellezza come dicevo prima 950 il colpo comandanti 3450 il colpo h e mentre quello p di 6200 per quanto riguarda invece il discorso riguardante il resto dei dati per quanto riguarda il movimento e il pessimo timone però in parte compensato dal fattore legato alla velocità infatti con la bandierina arrivate a sfiorare i 37 nodi e quindi diciamo piuttosto veloce per essere questa gigantesca e lunghissima di nozza sovietica per quanto riguarda invece infine il consulmente comandanti 11 chilometri e mezzo con le skill poi vi farò vedere se qualcuno stesse pensando blizzard ma se gli metto le h e potenziate e in quel caso comandanti sale oltre i 13 chilometri di spotting diventa di fatto spotabile tipo corazzata e io avendolo provato ve lo sconsiglio perché fate veramente fatica poi andare in spot e sopravvivere e considerando che le corazzate ormai non vedono l'ora di spararvi quando voi virate avere quei quasi due chilometri di malus rispetto a questo spotting da 11 e mezzo beh comandanti lo sentite tutto per quanto mi riguarda andiamo poi tra poco li vedrete gli aerorazzi in azione andiamo poi comandanti delle secondarie 6 torri binate da 130 mm capaci di sparare fino a 7,7 chilometri con la bandierina con una frescenza del 10 per cento e un danno da 1900 ogni cinque secondi ma come dicevo prima essendo estremamente leggero le secondarie non le utilizza praticamente quasi mai quelle che state ora vedendo in azione appena lanciate è la squadriglia speciale di triestre attacco artorius detto anche artorius sul fulvietto sovietico bolshevico sono praticamente degli attacchi aerei composti da sei idrovolanti fortissimi hanno 1254 hp raggiungono a velocità massima di 218 nodi standard a 176 ma la cosa veramente potente sono i suoi razzi infatti ogni aereo dispone di quattro razzi da 40 mm di penetrazione e da pensate oltre 2000 di danno capaci di generare incendi col 23 per cento di fire questi razzi riescono a penetrare bene qualsiasi cosa quando colpiscono sulla fiancata e generano incendi con una facilità disarmante avete visto ad esempio il danno di oltre 10k sulla castiglia tra l'altro questi razzi sono molto precisi vi dico solo che sui cruiser siamo arrivati anche a colpire con 15.000 sulle corazzate siamo arrivati a 18.000 con i razzi sulla porta aerei comandante siamo arrivati a 27.000 colpendo il fianco di una essex vi assicuro che il danno che possono sviluppare sulle portarie è distruttivo questa nave da sola potrebbe attaccare la portarie due o tre volte nel corso della partita e con l'aiuto della portarie alleata affondare la portarie avversaria potremmo essere di fronte al ritorno del cv sniping ovvero quel fenomeno che c'era tanti anni fa in world of warship che permetteva alle portarie di cercare di affondarsi in sua partita a vicenda e solitamente chi riusciva a farlo poi vinceva quindi questi sono i fantastici aerorazzi veramente colpiscono qualsiasi cosa con grandissima efficienza hanno solo una pecca questi razzi sapete cosa il tempo di attacco è estremamente breve circa 6 secondi qui dovete sempre essere estremamente veloci a droppare ma quando riuscite a colpire il danno comandanti arriva eccome su qualsiasi cosa qui in questo caso il takawa ha fatto un'ottima virata è riuscito a evitare la maggior parte dei razzi per quanto riguarda poi i siluri perché si comandanti monta anche i siluri ha due lanciatori da 3 uno praticamente per lato siluri da 533 millimetri classico diciamo dello standard sovietico bar europeo siluri crevono 10 chilometri con 60 nodi di velocità e un danno massimo di 15.100 con un spot in di 1.3 siluri che abbiamo già visto in tantissime marine quella inglese quella sovietica anche in parte quella americana quella tedesca è il solito siluro da 533 che ormai conoscete piuttosto bene la cosa buona di questi siluri è che li ricarica velocemente 76 secondi veramente notevole il problema è che non può lanciare da invisibile perché come sapete lui è spottabile a 11 chilometri e mezzo circa quindi paremmo una distanza ben maggiore rispetto all'autonomia di questi siluri se notate ora stiamo cercando di attaccare la zona centrale sfruttando anche le isole la balistica è piuttosto tesa non è facile colpire oltre le isole ma considerando che il tipo dei salem che il giocatore del col salem dei tepes non sa che noi stiamo prendendo di mira lui non ha un punto di riferimento contro noi non sa che li stiamo bersagliando in questi potentissimi cannoni da 240 mm per quanto riguarda poi il discorso legato comandanti all'air strank sommergibile è un attacco doppio come nella maggior parte dei casi con due bombardieri in payload da 4500 di danno particolarmente potente fino a 8 chilometri classica ricarica di 30 secondi ma con il stack poi farò vedere per riuscire a migliorare la ricarica dell'aerostrike con i razzi ho migliorato anche la ricarica dell'aerostrike e di conseguenza lui può lanciare questo doppio attacco ogni 25 secondi e mezzo direi buono infine parliamo della sua antiaerea che è un altro dei punti di forza del commissar l'antiaere veramente è tra i migliori dello standard sovietico infatti è dotato di cannoncini da 23 37 e 130 mm capaci di sparare fino a 6 chilometri danno base quindi senza buff senza potenziamenti continuativo 434 danno flak nei cieli 1764 leggermente potenziato dalla scheda due punti che poi farò vedere nella scheda dedicata siamo già arrivati se guardate a qualcosa come comandanti 14 incendi questo perché dicevo prima è il suo tiro incendiario è terrificante se considerate che lui ha 12 cannoni e comandanti abbiamo messo segno 141 colpi di fatto 12 colpi 12 a salva comandanti 14 incendi 141 colpi vuol dire statisticamente quasi una salva un incendio perché comandanti 12 14 siamo lì quindi veramente la sua incredibile precisione unita a questa mazzata di incendio e di penetrazione unita al danno è terrificante è probabilmente l'incrociatore che usa i cannoni incendiari più forti del compartimento sovietico è confrontabile tranquillamente ai migliori cannoni incendiari giapponesi o quali della royal navy per quanto riguarda il goliath e il campo e il reparto dei cruiser pesanti super pesanti portate un po doppio incendio sulla delaware che se lo tiene tutto questo 40 milimetri sicuramente è andato a nozze sul ponte della fragile nave ibrida tier 9 americana ora cerchiamo di spingere verso il centro siamo chiaramente ormai in chiusura siamo già arrivati a radosso di 200 mila anni continuiamo a fare tanti danni grazie ai nostri incendi nostro cannone h e ora cercheremo di finire a delaware non ci riusciremo poi andremo ovviamente spinta verso l'andeschi a destra che tra l'altro potremo anche mostrarvi come si comportano i suoi proiettili ap per quanto riguarda i consabili c'è un'altra cosa da dire importante oltre infatti al sonar che è un classico sonar da tre chilometri e mezzo di spotting sui siluri e cinque sulle navi con una ricarica di 120 e una durata di 114 e comandanti diciamo nello standard europeo non c'è nulla da segnalare c'è una cosa importante riguardante il repair party vedete infatti questo repair party è molto speciale ricarica infatti in solo 38 secondi 38 secondi quindi la vostra riparazione è costantemente a disposizione nell'arco del match quindi se sì è vero che la nave è fatta di carta velina è vero che è soggetta a tanti incendi però comandanti questo repair party è un continuo modo di arricchire il vostro pool di hp durante la partita è una cosa piuttosto rara vedere un incrociatore pesante avere un repair party così efficiente del campo cruiser quindi è un'altra cosa molto molto particolare che l'hour game gli ha voluto dare devo dire che all'inizio durante i test avevamo un po' titubanti su come definirlo come utilizzarlo e vedere come si comportava ma oggi che ha l'assetto di rilascio perché oggi effettivamente fa il suo esordio sul server europeo comandanti questa nave è assolutamente potentissima quando è libera di sparare quando è in grado di sparare indisturbata e gioca nella retrovia senza essere bersaglata dalle corazzate riesce veramente a fare dei danni spaventosi sul bersaglio guardate un po' attacco aereo sulla virata del nevski per cercare l'incendio e poi aspettando che lui mostri il broadside ma prevede il nostro arrivo e quindi vira in anticipo evitando di fatto di mostrare la cittadella il colpo a picco mandanti sulla fiancata a questa distanza può fare molto molto male siamo riusciti a cittellare facilmente stalingrad lo yodo il demoin il napolis il salem quindi avremmo sicuramente trovato la cittadella anche sul nevski che è un incrociatore pesante ma comunque perché avendo i 180 mm è un incrociatore pesante ma comunque l'armatura non è certamente pari a quella del petro pavlos calmeno sulla fiancata e poi lui decide di andare in maniera molto strana a colpire forse perché ha sbagliato la direzione a colpire il lo scoglio e ormai diventa di fatto carne da macello per noi e per la north carolina oltre che per l'arlem che arriva nella seconda linea il suo fondamento ormai è praticamente cosa fatta e siamo arrivati a oltre 250 mila danni totali in guardate neanche 15 in circa 15 minuti di partita come dicevo prima 18 incendi 209 colpi è veramente impressionante a questo punto sappiamo che non possiamo raggiungere il delaware con i canoni almeno questo non pensavamo sposto con il comando del comandante del pilota automatico la nave nel frattempo vado a colpire il delaware che tra l'altro è lì poco più avanti riusciremo anche a colpirlo con i razzi ma non affondarlo giusto per una piccola inerzia perché ormai avete visto che il cap centrale nostro genera punti in maniera praticamente industriale io volevo in un primo momento cercare di colpirlo sulla fiancata perché dovete sempre cercare di colpire sulla fiancata i bersagli e più grossi come le corazzate ovviamente qua manca il tempo siamo arrivati 9 60 veroppiamo sul ponte c'è sempre un po di disavanzo dal dal momento del drop allo sgancio vero e proprio dei razzi se guardate andranno segno guardate un po altri quasi 7 mila solito incendio ma la delaware rimane viva per pochissimi secondi poteggio piuttosto mostruoso un milione e 600 mila ovviamente con il consumabili dedicati all'utilizzo dei dei maggiormente dei crediti una città della 19 incendi comandanti 209 colpi diversi colpi a segno con i razzi che hanno appunto generato diversi incendi e danni agli avversari 3 kill per quanto riguarda team score siamo arrivati a quasi 2900 quasi a 3k ottima la partita del gdans come anche dell'iowa e resta della formazione così così ottima di lal salem come anche il marsol si ci hanno cercato di compensare sulla destra danno potenziale pochissimo perché siamo riusciti effettivamente a sfruttare al massimo la cosa di sparare restando nelle retrovie ed è poi il suo gameplay avvicinarsi è sempre pericolosissimo con questa nave non dimenticatevelo mai perché potrebbe fare la differenza tra restare a galla ed essere affondati questo è il setup skill consigliato al momento per quanto mi riguarda sul commissar cominciamo dai moduli abbiamo ovviamente la durata migliore del sonar abbiamo ovviamente la precisione migliorata al massimo il modulo della gittata alla fine per portare la gittata a 20 km che vi consiglio perché altrimenti 17.2 è veramente pochissimo e poi ovviamente sul quarto slot rispetto al solito propulsion ho prediletto il modulo che migliora gli hp dei vostri aerei i tempi di ricarica del vostro attacco aereo e infine anche la velocità del vostro airstrike ovvero l'attacco con i razzi che avete visto durante il match per quanto riguarda le skill sono più o meno le solite abbiamo anche migliorato questa volta la fire shaft portandola all'elite abbiamo poi prediletto di mettere la scheda due punti che va a migliorare oltre che l'air strike anche l'attacco antisommergibile era qualcosa a livello antiaereo perché comunque è un arricchimento totale della nave che ci può stare tutto io non trovo altre skill utili che si possono utilizzare su questa nave a parte quelle che vi ho selezionato sono convinto che tanti proveranno a giocarlo con hp e con le he potenziate ovvero la prima colonna sul terzo livello però comandanti in quel caso il consome diventa veramente ingestibile e secondo me il vantaggio che vi dà quel colpo he non è così importante come comandanti lo è già di base quindi per me è un bonus che è un po fittizio non serve a nulla su questa nave che comunque di suo ha già dei cannoni eccezionali che è inutile potenziare in tal senso andando a limitarla nel consome come sapete è fondamentale per scomparire e poi resistere ai danni avversari per quanto riguarda l'armatura è orribilante ve l'ho detto prima proprio poppa gigante da 25 nessun icebreaker quindi la possibilità di assorbire merciati è costante anche dei cannoni sotto i 400 mm ce ne sono tantissimi anche ormai a bordo dei vari battlecruiser ponte centrale molto soggetto incendio e poi quella orribile 115 laterale che è di fatto la cittadella vera e propria gigantesca che nella scheda seconda potete vedere adesso guardate un po' quanto è alta è una tra le più alte cittadelle mai viste nel compartimento cruiser più che un incrociatore sovietico pensavo quasi fosse una nave della royal navy perché come sapete gli inglesi sono spesso soggetti a queste cittadelle particolarmente alte basta ricordare la conqueror la thunderer ma anche altri incrociatori di fatto comandanti lei ha questo gigantesco gap che deve sopportare ecco perché è vietato vietato sempre avvicinarsi o dare la pruola poppa contro i grossi calabri perché se qualcuno spara bene o è fortunato con l'rng saranno dolori suonanti per la vostra nave per quanto riguarda il bilancio finale del commissario è ovviamente positivo perché nella meta attuale dove la gente spara ormai da 20 km lui ci va a nozze quando è libero di sparare i punti di forza sono tanti balistica elite incendia rapidamente direi anche troppo forse proiettili incendiare con 40 mm di penetrazione 12 km di disposizione se ci pensate è molto raro trovare un cruiser tier 10 con 12 cannoni da 240 in questo la sua potenza di fuoco è veramente notevole si uluri fino a 10 km per comunque da utilizzare quando siete sorpresi il miglior attacco aereo visto fino ad oggi sopra una nave ibrida comandanti questo nome è la nave non solo l'incrociatore ma è proprio la nave ibrida con attacco aereo più forte del gioco migliore anche della Louisiana migliore della Kearserge migliore del Delaware migliore del Tone, migliore del Cicuma migliore di tutte quelle navi che sono uscite fino ad oggi con un attacco ibrida che fosse un siluro, una bomba o altro niente, niente è paragonabile ai comandanti al danno che può sviluppare il Commissar in questo ancora una volta la Wargaming ha dato qualcosa di mostruoso a una nave russa bisogna dirlo perché è la verità anti-era decisamente forte per non dire fortissima abbastanza veloce 37 nodi è notevole repair party ogni 38 secondi come dicevo prima comandanti questa capacità che ha di ricaricare velocemente il suo repair party gli permette di resistere molto di più anche quando è focussato di normale incrociatore ovviamente non bisogna abusarne perché come sapete il danno a cittadella non è recuperabile dal repair party però se riuscite a prendere danno bianco qualche incendio così in quel caso il repair party farà il suo lavoro punti deboli punti vita risicati ne ha pochissimi e qui l'avete visto con il servability expert altrimenti ne avrebbe ancora meno armatura molto vulnerabile l'avete vista agitata standard bassa senza quel modulo che vi ho fatto vedere sul sesto slot è 17.2 è pochissimo quindi decidete voi se volete rischiare lì oppure nelle random secondo me 20 km si comporta benissimo anche perché spara ogni 15 secondi con comandanti il modulo di miglioramento della ricarica sparano i 13.2 quei due secondi lì anzi 1.8 non faranno poi tanto la differenza sul vostro risultato e immagino che l'abbiate visto in questa partita lunghi tempi di ricarica perché comunque per essere un cruiser pesante i tempi sono lunghi ma se sta dietro non è un problema uno dei peggiori timoni di sempre per un cruiser questo probabilmente è il suo talone da kille principale voluto apposta dalla wargaming il fatto che sia così lungo il fatto che sia così grossolano in manovra è di fatto comandanti il suo punto debole principale cittadella altissima è facile da colpire e poi è costoso costerà 30.000 di acciaio quando la campagna arriverà in un secondo momento poi principalmente in inizio verrà messo in vendita 35.000 questo perché aveva una mimetica speciale vi ricordate la famosa campagna di lancio del rugiero di loria che i comandanti venne messo prima a un prezzo poi a un altro proprio perché aveva una mimetica speciale ecco la wargaming sta ripetendo la stessa campagna anche per il commissar sovietico quindi stessa cosa se volete spendere solo 30.000 aspettate che vada con quel prezzo altrimenti dovete prenderlo a 35 anche se comunque con il coupon che tra l'altro è il reset tra circa due settimane avrete comunque un pesante sconto per chi volesse prenderlo è un cruiser da lunga distanza che può fare il suo lavoro quando è libero di sparare ma richiede ottime capacità di manovra altrimenti verrete completamente bersagliati dalle batte ship avversarie e io credo anche che adesso magari può ancora fare i numeroni ma quando la gente capirà quanto è leggero cominceranno a prenderlo di mira anche con le porte aeree a quel punto le sue partite potrebbero diventare molto molto difficili questo è il commissar per il resto come sempre sul finale di video vi ricordo che noi siamo l'andro della settimana su twitch da domedì al venerdì a volte anche la domenica dopo le 20 se volete passare a farci un saluto siete benvenuti vi ricordo inoltre che soprattutto chi vuole dare concretamente una mano al mio canale c'è la possibilità di abbonarsi gratuitamente con amazon prime se avete amazon prime lo collegate a twitch giù nel primo commento c'è il link per farlo ottenete prime gaming fate l'abbonamento ogni 30 giorni al mio canale senza pagare niente e obbligherete twitch a darci un piccolissimo e sempre più piccolo contributo mensile che ci manda avanti le produzioni ci permette di aggiustare il computer e avere sempre un hardware all'altezza per fare video sempre migliori qui nella nostra avventura tra i mari di world of worship un abbraccio e un ringraziamento sempre a quelli della blizz squad che in questo modo supportano concretamente le mie iniziative tra i mari comandanti per il commissar è tutto se avete domande fatele pure giù nei commenti qui su youtube per il resto noi ci sentiamo possibilmente credo sabato con il ritorno della blizz academy la sottoscritto come sempre buona caccia